Ora abbiamo la finale di 77 kg, due round da due minuti. Voglio entrare... C'è un forte apporto! Sono Bilal, vengo dalla Valle d'Aosta, vengo dalla Muay Thai P1 e adesso mi ci metto nello Strelka, facciamo trovare il meno possibile, sarà un dive. Tu volevi fare il mio e-mail? Sì. Quindi il prossimo mese faremo il mio e-mail? Il prossimo mese probabilmente ritorno. Allora, Roma 15. Dai, andiamo dal suo avversario. Eccolo l'avversario, vincitore del match precedente, di 77 kg. Mi sembrava un diablo. Ghost! 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 Out the system! Out the system! Eccolo! Dov'è! The system, Uro! ...dontro, трone, bambino! Wow! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.